Ciao a tutti, che bello! Seconda vittoria consecutiva Secondo 3 a 0 Parentesi, secondo me è questo anche più bello E terza cosa, che è la cosa secondo me più importante Un'altra bella vittoria E come ho detto prima del risultato Secondo me questa volta la vittoria è stata ancora più bella Perché a differenza dell'altra partita C'è stato anche un gioco migliore Ecco, non che l'altra volta fosse brutta, assolutamente Però in confronto oggi, secondo me Anzi ieri, perché il video comunque andrà online Poi domani, e vabbè insomma il 21 per capirci La partita, la restazione è stata migliore rispetto a quella della precedente settimana Insomma, quella contro Alessandria Allora, parliamo un po' della partita Allora, io credo che Per quanto riguarda Il commento Credo che Di questa partita qua Di questa partita qua Sia il commento Sia quello più semplice da fare Per quanto riguarda almeno questa stagione Perché veramente L'andamento della partita Stavolta è stato più o meno costante E cosa intendo? Intendo che appunto Potrei benissimo dire Che il Livorno ha fatto Per un 90-95 per tento La partita Ha riuscito a trovare tre gol E fine Questo potrebbe essere il commento Più sintetico Di sempre Però è la verità Perché parliamo un po' Divido subito Il commento Come sempre Diciamo parlando In due parti Parlando Prima del primo tempo E poi del secondo Allora, al primo tempo Livorno è che è entrato in campo Con una giusta mentalità Ma è preso il sistema dall'inizio Ha L'ha gestito In maniera ottimale Perché Veramente A livello di possesso palla Credo che Non ci fosse Diciamo Dubbi Nel senso Possesso palla è stato fatto Clamorosamente È stato Gestito Clamorosamente Dal Livorno E soprattutto Il Livorno Soprattutto nel primo tempo Anche nel secondo Ma soprattutto Nel primo tempo Il Livorno ha veramente schiacciato La Lucchese La Lucchese Veramente Credo A memoria Che non sia mai Arrivata Nella nostra Area Ha fatto solamente Il Livorno Diciamo che la partita È stata giocata Nella Nella parte di campo loro Ecco Nella parte difensiva Di loro Diciamo E oltretutto Il Livorno Anche se Un po' Il scorto Schiacciato Ha creato Secondo me Tanto Soprattutto Anche Facendo un confronto Soprattutto Anche Rispetto al secondo tempo Quindi Riassumendo Velocemente Perché come sempre Purtroppo Mi Incarto Nei discorsi Diciamo che Soprattutto Il primo tempo Il Livorno Ha gestito Ottimamente La partita Non solo A punto di vista Del gioco Del palleggio Ma anche Del livello D'occasione Perché come ho detto Prima Ha schiacciato Clamorosamente La Lucchese Secondo tempo Perché Dato che Il primo tempo Comunque era finito Solo 1 a 0 Perché Il Livorno Ha trovato Tra l'altro Il gol Nel primo tempo Con una Buonissima azione Con Franco Ovvero Diciamo Una specie Di mini cross Perché non è stato Un cross Di Maiorina Per vantaggiata Vantaggiata Con la coda Dell'occhio Vede arrivare Franco Sulla sinistra Passaggio corto Franco prosegue Tira E gol Credo che Poi Credo Probabilmente Si rivedrà Sicuramente Nei Nei Comunque Anche Diciamo Un discreto Gol Non Classico Un tiro a casa Ma anche Diciamo Un'azione Un po' Costruita Comunque Questo è quanto Il primo tempo Il Livorno Beh A volte Schiacciare Blablabla Riuscire a trovare Riesce a trovare Anche Il gol Del vantaggio Inizia Il secondo tempo Come spesso Accade Non solo A Livorno Ma Anche Ad altre squadre Soprattutto Con La situazione Diciamo Di vantaggio Il Livorno Entra in campo No Molle No Moscissimo Però Rispetto al primo tempo Un po' Si Niente di grave Assolutamente Solamente Che Concede Seppur poco Qualcosa Alla lucchese Nonostante Ciò Il Livorno Riesce A Trovare Perché comunque Continuava a giocare Abbastanza bene Comunque Diciamo La gestione Del gioco Del palleggio Era sempre Del Livorno Nonostante tutto Però Non era In maniera Non era così Diciamo Pigiata Come lo era Nel primo tempo Però comunque Ci sono i palloni Era rimasto Il Livorno Solamente che Ogni tanto Conceda qualcosa In più Alla lucchese Tutti rispetto A primo tempo Però appunto Nonostante Nonostante ciò Riesce a trovare Un classico Diciamo Goal Ovvero Cross E colpo di testa Con Dumbia Apparente Dumbia Che fino al momento L'ha fatto Se non è Poco Forse se non è stato Il meno meglio Diciamo Il peggiore Tra virgolette Della partita Abbiamo questa Questa nostra Cos'è extra Insomma E dove Aveva fatto Il 2 a 0 La lucchese Diciamo Si ritira un po' Rispetto a quello Che aveva fatto Nel secondo tempo Perché il primo tempo Non è stato inesistente E addirittura Livorno poi Riesce a trovare Addirittura Il terzo L'ultimo goal Diciamo Goal Semi fotocopia Al secondo Perché è un altro Cross Stavolta Rivaliani E il goal Di Murillo Di testa E niente Poi la partita Beh Diciamo Ha continuato Più o meno Con lo stesso Andamento Di gestione Di pallone Da Livorno Però con ritmi Giustamente Anche più Più lenti Ecco Dunque Riassumendolo Il secondo tempo Livorno Un po' Ehm Meno Diciamo Cattivo Agostini Ehm Agostini Agostini Però Rimane Fa comunque Sempre Un buon Secondo tempo Ecco Sempre a livello De gestione Di pallone Di palleggio Di gioco E anche dal punto Di vista D'attacco Diciamo Forse Se c'è da Di discriminare Qualcosa Ma Veramente Se vogliamo Trovare Perone L'uovo Diciamo Un po' Meno Concentrato Un po' Più Lezioso In determinate Occasioni Però Niente di grave Anzi Come già Dissi Con Nel commento Contro L'Alessandria Pagherei ore Se Livorno Gioasse Sempre Sì Anche se Gioasse Come Gioate Nel secondo tempo Perché Ripeto Perché Oppure Riesse Di frainteso Non è che Livorno Ha fatto C'è Neanche C'è stato Un clamoroso Inevidente Cambiamento Nel primo Nel secondo tempo No C'è stato Quel mini Cambiamento Ma comunque La partita L'ha fatta Sempre Il Livorno Sempre Il Livorno Ripeto Basta C'è da dire Altro Comunque Per quanto riguarda Perché Questa Comunque Più che Opinione È stato Un commento Di Prima Nel secondo tempo Dandolo La mia Opinione Direi Che Dall'inizio Di Campionato Ad Già Dissi Nel precedente Commento Hanno Veramente Rivoluzionato Secondo me La squadra Eppure Non sono stati Tantissimi Sono stati Pochi acquisti Ma fatti Secondo me Bene Nel senso Hanno Più o meno Sistemato Le parti Che c'è A sistemare Ovvero In questo caso L'attacco Ragazzi Quanto riguarda L'attacco Volevo dire Questo Che mi aggiungo Il discorso Acquisti Quanto riguarda L'attacco Cioè Veramente Non so Se l'ho detto Ma eventualmente Lo ridico I video Si dell'anno scorso Era il problema Principale Cioè Non riuscivamo A fare gol E di conseguenza Creavamo Poco e niente Stavolta Veramente A volte Siamo troppo Spreconi Perché creiamo Veramente Tanto Cioè Se veramente Riuscissimo A Far sì Che ciò Che creiamo Diventino Gol Probabilmente Le partite Finirebbero 6 7 8 Poi Non so 6-0 Comunque Comunque Per noi Faremo Come il minimo 6-7-8 Gol Veramente Crediamo Tanto E stavolta Perché questa volta L'ho rivisti Prima di fare Le figurette Come ho fatto L'altra volta Ho visto anche Le highlights Stavolta Lo potrete anche Vedere Negli highlights Per chi non Avesse visto La partita Cioè Veramente Hanno rivoluzionato La squadra E appunto Ritorno al discorso Iniziale Ovvero La mia opinione Che Da inizio Campionato Ad ora Soprattutto dopo Le acquisti Il rivolno Momentariamente Lo dico Toccando Perché non vorrei Portare sfortuna Però Voglio essere Appunto Obiettivo Nelle cose Sta sempre Migliorando Non solo dal punto di vista Chiaramente Attacco Ma proprio dal punto di vista Di gioco Gioca sempre meglio Poi chiaramente Magari Con tutto rispetto Per Lucchesi Che sinceramente Ieri Spero che sia Per loro Che sia stato il rivolno A far sì Che non hanno Potuto Diciamo dimostrare Ciò che valgono Ma veramente Sinceramente Me lo aspettavo Un po' più forti Però Non so Se appunto È stato il rivolno O altri motivi Non so Magari È una giornata No Comunque Magari Sono alcune squadre Che permettono A lei Voglio giocare Diciamo Un po' meglio Un po' peggio Però È stato rifatto Che Livorno Posso dire Che quest'anno Chiaramente Il tutto Il campionato Appunto La categoria Blah 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 Però Livorno Secondo me Per ora Ha dimostrato Di avere Una sua Identità Sicuramente Più Dell'anno Scorso Ha un suo Gioco Ecco Poi può essere Condivisibile o meno Però ha un suo Gioco E ha secondo me La giusta Cattiveria Agonistica Poi Chiaramente Questa è Solamente la mia Idea Non voglio dire Niente Proprio Proprio Per me Livorno Fa un gol Perché scazza Invece No Rispetto ad altri anni Ha un suo Gioco Calcolando la categoria Certo Non è il tiki Taka Per l'amor di Dio Però È un Gioco Giusto Per la categoria Anche perché È inutile Fare il tiki Taka Per me La cosa Principale Per poter Sperare Di far bene In questi Campionati Qua È giocare Con l'aggressività E giocare Semplice E Livorno Lo sta facendo Non fa Grandi cose Fa passaggi Abbastanza giusti Fa movimenti giusti E a volte Concludi anche Giustamente Facendo Le occasioni Creati Quindi Questo è Diciamo Il mio parere Per quanto riguarda Più o meno Perché comunque Il discorso Deve stare Qua L'ho già fatto Nel senso Che è come Giusto Secondo me Però anche Come si sta svolgendo Per l'ora Il campionato Ecco Quindi Bene così Sono molto contento Pansato Del debito Degli acquisti E Basta Non c'è da dire altro Forse Ultima cosa Poi Finisco il video Una cosa che c'è a dire Positivamente Che mi sta sorprendendo E vantaggiato Perché Perché Io vi dico la verità Soprattutto L'anno scorso Non si è fatto male Ho detto Questo è finito Questo io spero Per il Livorno Per il discorso economico Che A fine anno Se veramente Era scadenza Se non erro Comunque Anche se magari Sono in livello Di recessione Veneta Io non lo potessi vendere Perché Con la sua muscolatura Con la sua Diciamo Fisicità A parte sembrava Che non potessi mai Rentrare Poi Sono me Anche se Io vi sto riferendo Il discorso L'anno scorso Poi ho detto Anche se guarisce Chissà quanto ci vuole Per rientrare in forma Ma questo se vi C'era l'età La fisicità Poi era anche la voi L'analisi Si sfava Per di questo se vi Insomma Era stato rifatto Se è arrivato All'altra volta Che fa gol Tutti i contensi Se hai ritrovato Se hai ritrovato I tuoi ragazzi Ha fatto un gol Su rigore Insomma Il terzo gol E il secondo Sì è vero Ha fatto gol Però Ha passato la palla D'Umbreatti Lo riepeggio I razzi Poi ha tirato Una buca Cioè Bel gol Però niente di eccezionale Ma mi sembra troppo Era montato Così vantaggiato E insomma Se arriva ieri Che invece Mi ha sbugiardato Meno male Perché Nonostante Non è che lui Faccia Chissà cosa Non è che fa Le volate Su e giù Sulla fascia Scartaggiatori Quadrivi No Però ieri Secondo me Era la miglior partita Di vantaggiato Di quest'anno Per amore di Insomma all'inizio Però se non ha giato Mai dell'altra volta Ho visto un vantaggiato Più Inserito nel gioco Vantaggiato Che non ti stardisce Non è che tira a casa Ma ben si smista il gioco Addirittura anche il gol di Franco Di solito Ti ha vantaggiato La stoppa E provare il tiro Invece stavolta Quando poi rivedete il gol Di Franco Il primo Cioè ha fatto Una ossa bellissima Nel senso Una ossa giustissima Dentro l'aria A due metri alla porta Ha messo la palla A Franco E l'ha fatta Tenere davanti alla porta Di solito lui Tirava Invece no Più Non so come spiegarlo È diventato molto più Diciamo sociale Socevo Da punto di vista Calcistica Diciamo E poi fra l'altro Non è Diciamo fa la classica boa Oltretutto Nel senso Vero che non è arte Però È abbastanza ticcio Come la classica boa Ecco Quindi Da punto Mi staggio E niente Sono soddisfatto Spero poi Che eri purtroppo Arrivato Ma spero Che possa fa anche gol Quindi Vesta è una piccola Prende subvantaggiata Che ci teneva a dire Insomma Detto questo E niente Addirittura il commento Sta durando anche troppo E niente Ci vediamo poi La prossima partita Ripeto sempre Se la vedrò Se riuscirò a vederla Farò il commento Altrimenti Ci vediamo Quella che poi vedrò Non nemmeno Non dico neanche Quella dopo Dico quella che poi vedrò E niente Bene così Dai bimbi Ora vi do la verità Non sono nemmeno Sistema primi In classifica Forse sì Però non ne sono sicuro Forse Orsiana Mi pare Devo guardare Non l'ho scordato Via Ci vediamo Avanti ci sentiamo Ciao Non è arte Però È abbastanza ticcio Come la classica boa Ecco Quindi Appunto Come ho detto Mr. Joe E niente Sono soddisfatto Spero poi Purtroppo non è arrivato Ma spero Che possa fare anche i gol Quindi Vesta è una piccola Prende subvantaggiata Che ci teneva a dire Insomma Detto questo E niente Addirittura il commento Sta durando anche troppo E niente Ci vediamo poi La prossima partita Ripeto sempre Se la vedrò Se riuscirò a vederla Farò Il commento Altrimenti Ci vediamo Quella che poi vedrò Non nemmeno Non dico neanche Quella dopo Dico quella che poi vedrò E niente Bene così Dai bimbi Ora vi do la verità Non so nemmeno Se siamo primi in classifica Forse sì Però non ne sono sicuro Forse Orsiana mi pare Devo guardare Non l'ho scordato Via Ci vediamo Anzi ci sentiamo Ciao 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 Ciao